Bella rica, allora parto col dire che questo video è durato poco per il semplice fatto che il posto non era enorme. In più se seguirete fino all'ultimo il video potreste assistere alle bestemmie di Giacomo. Detto questo iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e attivate una campanellina per rimanere sintonizzati. Ci sta, robaè, vedete dove stanno qui i pezzi di ferro originati? Mezza lega dovrebbe stare ciò, vedete porco, piglielo. Qua non ci posso non vedere, non gli andrà mai l'acqua, l'occhio qua. No, non gli andrà mai, fidate. In sintesi, dentro quella finestra lì, adesso credo che non riuscite a vedere, eh sì, infatti, dentro quella lì, quella che sto inquadrando, Giacomo all'interno ha visto un qualcosa muoversi. Cioè adesso non crediamo sia un qualcuno che abita lì, però... Non è affattibile perché se no andiamo là... Vabbè, muovemosi qua, che qua è un po'... Speriamo di non trovare un fosso o qualcosa, ma non credo. Tanti ne credo, io per... No, scherminare. Qua si vede un sacco. Proviamo a girare da qua, per favore. Eh, però tutto è quasi da giù, tutte le scarpe bagnate li giudiamo. Eh vabbè, lo si asciugano. Guardate qua, dove cazzo stiamo? Sì, è murato. Vai un po' a coltivare. Sì. Regà, si può entrare? Eh, non lo so, però venite commentando, solo c'è stata una porta aperta. Ne serve qualcuno con il piede de porco, raga? Tranquilli, qua in Giappone vede. Eh sì, raga, qua siamo molto visibili. Un sacco. Robby, pia un sasso, un qualcosa. Eh, guarda qua c'è stiamo. Eh la madonna, guarda. Oh, che figo una caverna. Ma va, dentro non ci vado, eh. Senti, cominciamo a piegare mascherine. È tutto a corrente, va. Robby, tu resta da guardare un attimo. Eh, vabbè. Io non puoi entrare? Eh, vabbè. Eh? Tu vuoi venire dentro? Sì, resta un attimo qua mentre piegiamo le mascherine. Guarda dentro. Chiaro, vabbè. Eh no, questa è angertata, è la mia. Ah, su, è quella che ho scritto a scheggia, tipo. Vabbè, raga, ci muniamo un attimo di mascherine e tutto quanto e torniamo. Perfetto, raga, stiamo entrando. Ripeto che noi non abbiamo mai visto sto posto, eh. Guarda qua come può crollare. Oddio, speriamo bene. Robby, non ci sono stati sottenti. Ma l'hai già crollato tutto. No, scheggia, è così finita. Vabbè, ci starà un'altra entrata. La caverna ince non ce la renda. No, no, manco io, ragazzi. Dici che no. Io ora mi avvicino un pochino. Eh, ma ecco, vabbè, già lo vedete qua, è tutto crollato. Da fuori non si vedeva un muovo, cioè, guardate là, raga. È completamente crollato tutto quanto, non va bene così. Qua ecco, c'è un muovinetto. Questa è la prima parte di questa casa. Mo vediamo di girargli intorno e trovare un'altra entrata. Questa era super giù. No, vabbè, non ci devi andare. Robby, no. Robby, lo vedi cos'è crollato là? So che là c'è sta una cosa che gira a sinistra, però non te lo consiglio. Guarda che, guarda già sto soffitto. Andiamo là. Crolli là sotto, come da ripiemo? Questa è la cantina. Quindi gireremo gli intorno e troviamo l'entrata dalla casa. Ok? Stiamo andando dove c'è? Rega, Robby, intanto stanno a controllare. Stanno andando così, però. Perché l'entrata l'abbiamo trovata, ma... Allora? Andiamo. Ok, Roberto ci ha dato l'ok. Mo se sbrigiamo, qua è pieno di spine. E io le odio. E siamo anche troppo visibili. Mo ti dà la mascherina? La mascherina l'ho messa. Robby, c'hai la mascherina? Sì. Ma cazzo, vatti entra qua dentro. Un bagno qua. Da po' la torcia. Mi tocca scappare. Un bagno qua. Porco, guardate qui che casino. Mi tocca scappare sul cazzo. Sì. Ma il... Aspetta, al soffitto... No, al soffitto vedo che regge. Lo vedo abbastanza... Guarda come... Vabbè, proviamo... Preseguiamo la pettella, dai. Robby, Robby, ci devi guidare perché non sei... Non sappiamo... Robby, non salire e scagliare, sei scemo. Non ci andiamo sopra tanto. Robby. Oh, le scale so in... Com'è che le dell'altra casa. Quindi è sicuro. Però non c'ho paura di essere il suo pavimento. Robby, andosi passato. Robby, prendi questo. Robby, prendi questo. Metti il piede qua. No. È sicuro che la porta... Ok, non impenna. Mettilo il piede qua. Sì, qua c'è ragione. Un bagno. Ok, scala a chiocciola. Come l'altra casa. Qua che cosa c'è? Eh, infatti, vedi qua... Qua è andato a questo pino. Ma aspetta, aspetta. Schifo, mi è caduto qualcosa in capo. Eh, qua... Guardate le cagate. Meno male ci abbiamo le mascherine. Gli uccelli che stanno... Come gli uccelli? Gli uccelli? Lo vedo bruttissimo, perché? Raga, qua... Eh, guardate qui. Poi, io... Robby, Robby, fino al lato. Vai. Oh, io mi metto... Camminate ai lati del muro. Ai lati del muro non può crollare. Oh, io sento camminare. Sì, ma gli uccelli. No, hai controllato proprio dentro? Sì. Guardate lo soffitto. Ci stanno i piccioni su lo soffitto, raga. Buon madrasso. Guarda fino là. Sì, però i piccioni stanno a spacco lo soffitto. Ma qui, non vediamo che lo so. Ecco, ragazzi, qua... Siamo su... Siamo, facciamo sul panorama. Ecco, qua io mi uccardo. E tanto lo so. Oh. C'è il piede del pacco, raga. E io penso proprio di sì, eh. Ragazzo, non andiamo. Ah! Cazzo! Adesso punto. Vai, vorrei prima. Adesso, ragazzi. Adesso, ragazzi. Adesso, ragazzi, ragazzi. Vai, vai, vai. Adesso, ragazzi, ragazzi. Adesso, ragazzi. Adesso, ragazzi, ragazzi. Sì, vai, vai. Allora, il video, vabbè, era breve, perdonateci. Questa era la casetta. Era... E... È la seconda, comunque... È la seconda parte del casale che abbiamo portato poche settimane fa, io e Giacomo. Ma come adesso mi ha dato questa esposizione? Non tanto bello perché la casa è troppo piccola. Non c'era niente dentro. Quindi che... Devo dire che era meglio la fabbrica. È ovviamente sì. Detto tutto. Tu, Già, che... Una vera merda. Oltre quello? Madonna. Oltre quell'altro? Oddio. Una vera porco di merda. Oltre alle tue bestemmie per le scarpe, come ti è sembrata? Una vera merda. Bene. Vuoi dare tu il saluto finale? Ciao. Porco di...